Mister, un grande primo tempo con tante occasioni da gol, con il gol del vantaggio di Lazovic che non lasciava presagire una sconfitta come è maturata nel secondo tempo. Tu hai una spiegazione? Sì, sono entrati i giocatori più forti e hanno accelerato. Noi non siamo riusciti a reggere in una partita dove veramente a livello del gioco, di espressione, di quello che abbiamo preparato, di tutto. Dopo un primo tempo così, che dici qua dovevamo fare più gol, che non abbiamo mai concesso niente, cioè dominio assoluto, e là hanno accelerato. Gabbia Dini, Candreva e Keita è un'altra roba. E via. Alla fine penso che conta molto questo. I giocatori, alla fine è sempre così, sono giocatori che possono alzare il livello o no. No, questa è la mia sensazione. È difficile anche parlare, però è così. Dispiacere anche legato ai tre gol regalati. No, poi i gol sono stati veramente terzo, il primo, un fallo laterale, palla buttata così, arriva, poi abbiamo buttato le palla per 2-2, è andato anche tutto un po' storto. Però quella sensazione di strapotere fisico, tecnico, ce l'ho avuta. Quello è molto semplice. Entrano questi tre, è un livello diverso. La storia anche loro dice un livello diverso. Da salvare è forse il punto da dove ripartire? Lo spirito, la generosità di questi ragazzi che non manca mai, che giocano come fosse la prima giornata di campionato? Ma no, ma ragazzi sono top. Ragazzi, questo anno che io ripetevo, poi vabbè, si prende così tutto, cioè tutto come una cosa normale. Questo anno hanno fatto un lavoro strepitoso, perché io so qual è l'esatto valore, quello che hanno spinto, quanto hanno dato, quante concentrazioni ci voleva, quanto lavoro, tutto così. È chiaro, anche prima della partita che abbiamo perso Miguel, Magnani, Ceccherini, perché era in Pachina ma non era disponibile, mi perdo anche Calini, cioè che comunque ti possono dare qualcosina in più di spessore, perché magari vedi che stiamo calando un po'. Niente, questa è la mia sensazione, cioè salvo tutto, però questa sensazione di fragilità, non è fragilità, è che altri, cioè questo andavano più forte, più forte, più tecnico.